Ognun luogo ha una storia da raccontare, un luogo ha un piccolo genio, ha un DNA. E' stato concebito da Renzo Piano come una obra che quasi non pisa la terra. Sei scrittore o sei poeta o sei cineasta come sei tu o sei architetto e lo porti con te, è la tua cifra, è il tuo carattere. Quindi nei miei caratteri c'è la luce. Il mio padre era un piccolo costruttore. E' importante perché tu crei con questa idea che costruirai un arte. E tu assisti a questo miracolo, qualcosa di straordinario che non ti lascia più. Quien ha conseguito crear mejor atmósferas per experimentare l'arte è Renzo Piano. Stiamo vivendo un momento determinante in la storia di questa città. Il Centro Botín sarà un centro di arte. Su attitud educativa e artistica tendrà un impatto in tutta España e nel mondo. Tutto questo fronte è il centro della città. E in questo momento c'è una operazione di costruire un edificio che corta radicalmente questa continuità. Devi stare attento, tu lo sai benissimo, perché vale anche per il cinema. Non si può fare un edificio inseguendo gli indici di gradimento, facendo quello che ti aspetti che piaccia. C'è qualcosa che non funziona come pensavamo. Perché sai, è come un pianista, devi suonare, devi provare. Il 1 di giugno, io ho avuto qualsiasi possa avuto. Ma sarò lì, avuto avuto qualcosa. E' molto difficile definire le date di finale di qualcuna opera che si fa, no? Un lavoro creativo è un po' come guadagna il buio. Subito non vedi niente. Dopo un po', l'occhio si adatta. Hai bisogno di un po' di silenzio, hai bisogno di vuoto. E' tutto un lavoro molto concreto. Però poi c'è un'altra dimensione che sfugge. C'è un filo rosso molto sottile che collega la tecnica con la poesia. Bem quelques punti per direnci. E' tutto un lavoro che li v�로orta, via 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 via. Cap' prossima. Grazie a tutti.